Cremona ha un numero enorme di impianti a biogas e biomasse, un inceneritore obsoleto, con una tecnologia ormai superata in cui si continuano a conferire rifiuti non solo della zona, un'acciaieria che è salita recentemente alla ribalta delle cronache nazionali e se a tutto questo aggiungiamo lo smog derivante dal traffico intenso della vicina autostrada, il quadro non può che essere preoccupante, come confermano i dati ISTAT in riferimento all'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria in Europa, pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, secondo cui Cremona è al secondo posto per polveri sottili. Non solo, l'inquinamento atmosferico ha causato in Europa 307 mila morti nel 2019, in Italia sono oltre 10 mila solo per il biossido di azoto, più di tutti gli altri paesi dell'Unione. Queste concentrazioni di smog avrebbero un effetto diretto sulla salute dei cittadini. La necessità di mettere in chiaro le cose con alcune aziende che attraverso la loro lavorazione generano comunque polvere in atmosfera che si legano con l'inquinamento da altre fonti e soprattutto bisogna aiutare i cittadini ad utilizzare l'auto solo quando è indispensabile. Troppo spesso gli amministratori si fermano davanti alle critiche dei cittadini, ma l'amministratore ha questa funzione di dover gestire, mettere in campo possibilità, per tutti. Quello che manca è una seria programmazione e fatti concreti. Questi non li stiamo vedendo né in regione Lombardia che avrebbe l'autorità e la forza per poter cambiare le linee guida per i nostri territori, soprattutto nella gestione autorizzativa di nuovi impianti, ampliamenti, regolamento magari un po' più ristrittivi, ristringenti per quanto riguarda i fattori emissivi e di conseguenza anche sui comuni dove è troppo bassa la voce con i quali i nostri sindaci si fanno sentire. In una città come Cremona, affossata nella conca della pianura padana, in cui persistono tutte queste problematiche, diventa dunque necessario agire su più piani con interventi urgenti e mirati.